La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato il patrimonio di Massimo Calafiore, indicato dalla DDA di Catania come un esponente del clan Aparo di Floride e Solarino. Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in relazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso al traffico di droga nei confronti di Calafiore, coinvolto l'operazione chiamata San Paolo, conclusa ai carabinieri nel luglio scorso con 24 misure cautelari. Il Tribunale Etneo, su richiesta della procura distrettuale, ha disposto la posizione dei sigilli per un appartamento, un'autovettura di grossa cilindrata e rapporti bancari e finanziari per il valore complessivo di circa 300.000 euro. Un provvedimento che secondo gli inquirenti è motivato dalla pericolosità sociale del 52enne condannata in via definitiva in due procedimenti giudiziali. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero svelato una evidente disomogeneità tra la sua dichiarazione del reddito e la disponibilità di immobili e conti correnti nel periodo compreso tra il 2000 e il 2018. La difesa dell'indagato, rappresentato dall'avvocato Domenico Mignosa, ha già preannunciato ricorso al provvedimento di sequestro, così come, dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, il legale ha presentato istanza di scarcerazione per il suo assistito. L'inchiesta a San Paolo ha avuto origine dopo alcuni incenti avvenuti nel comune di Floridia ai danni e alle attività commerciali, tutti accomunati allo stesso modus operandi. I roghi venivano appiccati agli esercenti che erano caduti nell'arre dell'usura. Alle vittime erano applicati tassi di interesse a mensili del 20%, 240 annui. Gli esercenti, secondo i carabinieri, pagavano con bonifici bancari o trasferimenti monetari su poste pay, oltre che con il classico metodo del trattenimento di assegni dati in garanzia per l'ammontare del prestito. I soldi e l'usura, da quanto emerge nell'inchiesta a San Paolo, sarebbero stati investiti per l'acquisto di partite di droga, fornite da un gruppo di catanesi legato, secondo la DDA, al clan etneo dei Santa Paola e Ercolano, gruppo di Nicolosi Masca Lucia. La sostanza stupefacente veniva poi rivenduta a numerosi acquilenti di floridi, alimentando lo spaccio al dettaglio fra floridi e solarino.